Buonasera, sono Vanessa Mischi e rappresento la regione dell'Alvernea nel massiccio centrale della Francia. È una regione bellissima che vi consiglio veramente di venire a vedere, scoprire, perché ci sono sempre più italiani che cominciano ad apprezzare la regione. Abbiamo per esempio Vulcania che è un parco europeo del volcanismo, parco scientifico e di attrazione e poi ovviamente è un posto molto interessante perché si può scoprire l'avventura della terra e le spiegazioni su tutta la terra ed è bellissimo. Poi abbiamo tutti i paesaggi che sono molto con i vulcani da vedere. Io vi consiglio di dare un'occhiata sul nostro sito e rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento. Vi ringrazio e vi aspetto in Alvernea appena possibile. Grazie.